Il primo gol, io volevo rispingere la palla, il gol di Littmanen, su punizione, io non ho visto partire la palla, volevo dargli di pugno, gli ho dato di pugno, però volevo alzarla, è andata sul petto di Ciro, la palla è rimasta lì, ha fatto gol di Littmanen, quindi c'è questa rabbia, finale di Champions League, fai questo mezzo errore, tutto quanto, c'è una rabbia dentro, quando arrivi di gol. Poi partita dominata e sbagliata, sbagliando tante palla, non riesci a rimontare e a vincere, poi ha fatto gol Ravanelli, verso e sinistra, si è arrivato il rigore con una tensione allucinante, quindi è stato un pianto liberatorio. Invece tu le hai parati due, i giocatori le hanno segnati tutti, quindi sembravate molto, molto… Però comunque la Juve ha avuto sempre il braccino sulla finale. Però quella no, quella ha giocato. Ma anche quella, perché alla fine ha vinto a rigori avendo dominato una partita. È un puro caso. Ha perso una rigori, ha perso quella del 71, ha perso quella del 82, 83 dove c'è di dire? 83. 83, 83, l'ha nata dicevo io. Però sull'IAC non sono d'accordo. Abbiamo perso quel Borussia Dortmund dove eravamo strafavoriti e mi diceva anche Angelo che forse i giocatori sentivano… No, no, ma noi eravamo sicurissimi di vincere quella partita. Lo stesso noi in Atene. A posto è successo quello. Noi eravamo sicuri di fargli quattro gol e mandare a casa. È quello che ci ha fregato. E invece con il Real Madrid? Con il Real Madrid invece sentivamo la partita. Io secondo me, dopo il gol che è stato fatto fuori gioco. Lo ricordiamo solo noi, bravo. Tutte le settimane. Lo gioco un metro e mezzo, due metri. Dopo il gol abbiamo giocato praticamente tre minuti. Se rivedete la partita, loro continuavano a buttare fuori la palla. Noi non siamo riusciti più a fare, se non un'azione di Sidor. Di Davide, ricordo, che diblò tutti ma non riuscì a tirare in modo… Però non riusciamo più a creare un'azione perché la palla era sempre fuori o un giocatore Real Madrid a terra. Quindi è stata una partita bruttissima. Brutta, sì.